ci siamo un po ma ci siamo vi faccio vedere 5 trucchi su minecraft che funzionano in creativa allora il primo è il command block il command block se siate da playstation cliccate freccetta destra per aver lasciato guardate io sono dato che sono da computer devo cliccare qui se mi carica al mondo almeno ah è su figlio di putte allora noi nato ci siamo dei fighi come vedete io ce l'ho già il command block però voi per fare il command block in questo caso lo lascio a terra e lo faccio faccio ghi e dovete scrivere come scrivo ghi e mo dovete scrivere il vostro nome della play o di qualsiasi roba devo scrivere il nome draller perché è il mio account di xbox quindi perché da computer si registra con xbox non so perché e dovete scrivere anche staccato com mand trattino basso trattino basso block e in questo caso vedrete che vi sponerà un command block in nella mano errore di sintesi non attesa draller draller come al block la prima volta vi dirà così poi riprovate 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 fino a che non vi si incazza il cervello di questo caso e sponerà il command block avevo sbagliato io a scrivere però comunque in raga il gioco vi sponerà questo command block vi sponerà questo command block quando voi avrete il sito su tutto lo schermo che schifo e quando voi posizionati il command block voi gli input dei comandi fatte chiocciola s per se stesso ragazzi tipo in comando impulso ripetizione e dovete fare condizionale sempre attivati pietra rossa necessaria la pietra rossa dovrebbe essere ritardo tic 1 quindi un secondo e qua dovrete scrivere una cosa che dovete scrivere quando dovete fare così dopo cliccate questo qua dopo cliccate qua scrivete eeeh però no non me lo fa scrivere voi quando fatto questa roba blocco di pietra rossa ragazzi questionate qua e tutto il comando si dovrebbe avviare ero di vira ero di sintesi non attesa che ce l'ha essere in questo caso voi dovete scrivere ero brine un attimo ragazzi ragazzi stavo dicendo mi serve che voi mettete questa roba che non mi ricordo quale cazzo era eeeh boh che ne so mettete gay scrivete mod ero brine ero brine ero brine ero brine fatti fatti più ero e vi appellerà questa roba voi fate così e dopo quando si aziende la dovete dovete metterlo qua e quando ha segnato moddero brand si è un capito ragazzi vabbè voi andate in un video di youtube cercate i comandi io vi ho fatto vedere un trucco solo i nostri comandi però i comandi allora questa qua dovete fare give sempre drolle 17 perché il nome game da me che non basso mode 0 game mode volevo dire uno scaso mi dirà così poi provate la seconda sono sbagliato io raga comando sono un coglione allora give vabbè che è tutto piccolo l'ha scritto sto gioco di verda digger diciassette e fa bocche ne so ci sono vari comandi noi fate scrivete bocche ne so in scritte flint flint frattino basso and still ila robo ha ricevuto pietra focaccia e acerino ragazzi che voi ma ora c'è l'inventario piano quindi dovrei fare così però c'è l'inventario piano quindi non mi ecco ragazzi ah no non ce l'avevo piano e me l'ha dato pietra focaccia ecco ragazzi vi faccio vedere che non è effettivamente un fake guardate di fame aspetta live 17 ma scriviamo che ne so che ne so e nether star n e n e t e t star boom un comando è stato assegnato a droller digger ragazzi c'è vedete questo qua è la stella del android per fare insomma drago così ora faccio ghi e questo qua è l'ultimo comando ragazzi quindi facciamo tutto di fretta che ne so che ne so che ne so e facciamo che ne so che famo i di scriviamo che ne so ma porca putt armor trattino basso stand trattino 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 basso stand trattino basso in incantato ma non vedo la darà quindi dovete scrivere solo quello allora spero che questo video vi sia piaciuto certo visto l'altro video di mike andatelo a vedere perché ho fatto una bedwars praticamente e questo qua era un piccolo spoiler anche questa costruzione che ho fatto però dato che sono creativo ho detto chissene faccio un meccanismo ragazzi apposta per voi direte ma quello la non è un elicottero ragazzi è un elicottero dato che sapete cosa faccio ho detto ma che fo ho detto ho fatto più avanti ci farà un meccanismo per farlo funzionare e per farlo andare però ragazzi mi lagherà un botto ci scommetto 100% ci scommetto lag allora spero che il video vi sia piaciuto e noi come come sempre ci vediamo alla prossima un bonus